Ciao! Io sono Barbara e io sono Lara e qui abbiamo una OMG da aprire insieme a voi ma... Non è una normale OMG? No ragazzi! È storica! È lei! È lei! Guardate un po' di chi è... Ok, non aggiungo altro, mettete like, iscrivetevi al canale e... sigla! Ok, torniamo a noi! Eccoci tornati, come dicevo, è la OMG, quindi tecnicamente sarebbe la sorellona, qualcuno le usa come mamme Noi avevamo già utilizzato una bambola molto simile all'Ollina, nel frattempo l'è caduta l'Ollina e probabilmente è morta, no? Dov'è? Piccolina, che gli è successo? Niente, di caduta, noi avevamo già utilizzato un tipo di bambola che secondo noi assomigliava Cioè poteva fare, poteva... insomma, questa, questa qui, è una Kurayuku? Sì È una bambola che avevo preso su Amazon Americano a un milione di euro, no, un milione di euro, non è una bambola costosa però tra Dogana, Dazzi e compagnia cantante era costata un bel po' e vedete assomiglia tantissimo a Lollina Cioè i capelli non sono i suoi perché... però sono un po'... Però c'ha i due codini, ci sta, insomma, un pochettino Poi ha questo vestitino così... Esatto, il vestitino è tipo quello di Lollina, insomma, vabbè, avevamo usato questa Voi sapete che noi spesso e volentieri ricicliamo cose o accrocchiamo case, casette, robe per compensare quello che non abbiamo Ma finalmente abbiamo la mamma L'hanno fatta Allora, io farei che lei è sorella, visto che abbiamo lei che è la mamma, bella pignolona, antipaticona, un po'... Ok, lei è la sorella Basta, come direbbe, come direbbe Lollina Parla Meno parole Più apri Ok Non ci posso credere L'hanno capito È arrivato quel giorno Hanno considerato anche me, le avevano fatte di tutte quante, tranne la mia Lollina, non te la prendere sempre, l'hanno appena fatta, la siamo per aprire Non vi dolore, sbrigati Andiamo Andiamo Allora Vado Lollina sei pronta Eccola qui, qui c'è la fan alta, quindi qui c'è il disegno Dobbiamo andare ancora avanti Oh, oh, oh Lollina, stai calma, però, non è il pazzire Quanto è carina, è molto bella Allora, vediamo anche il corpo Vado Vai Voila Oh Quanto è sexy Questo secondo me è quella luce Questa secondo me è quella luce ubi, brilla un botto Però Lollina Sì, ha i capelli molto, molto, molto fluo Di questa serie 3 fanno parte quattro bambole Appunto, la nostra Lollinona, che si chiama Clasprets Potevano scegliere un nome un po' più carino, in effetti Clasprets Non mi piace tantissimo Poi c'è Chillax, c'è Roller Chick e The Boss Questa è meravigliosa, questa è meravigliosa, questa è meravigliosa Sono tutte molto, molto belle Sento dei rumor, forse questa non arriverà mai in Italia Non so se questa è una notizia effettiva oppure no Comunque, nell'Amazon europeo già si cominciano a trovare Quindi non sarà del tutto impossibile reperirle Vediamo bene la scatola che ci dice appunto serie 3 Ci dice che ci sono dentro 20 sorprese più o meno Ma voi sapete bene che le sorprese sono anche, ne so, la carta, la scatola Il contenitore, vabbè Comunque, e poi c'è la bambola Pronti a tirare la prima linguetta? Ok, il primo strato rivela la fan art Quindi eccola qui, vestitina Che carina, quanto è bella È veramente super bellina Andiamo a vedere pure la bambola Tiriamo ancora Eccola qua Il viso è incantevole Ricorda abbastanza l'olina Wow Mamma mia che bello il completino Pieno di letterine Firz c'è scritto LOL OMG Queen E un sacco di numeretti I capelli sono, ahimè, ricci e boccolosi Questa cosa mi preoccupa un po' Perché secondo me si infiltriranno Ma non cominciamo a piangere prima di averla vestita Siamo là fuori Mi state dicendo che io da grande diventerò così? Così Posso dire? Che cosa devi dire? Così gnocca? Probabile, Lollina, non lo so Perché vorresti essere con queste forme? Eh beh, sì, in effetti Non è che mi dispiacerebbe molto, eh Sono qui tutta a pace rottina Lollina, ma sei bella così tu Vabbè, comunque cominciamo a tirare fuori la prima parte Questa, vai Estrai Guarda dietro cosa c'è Un pezzo di scuola C'è i tuoi colori Perché c'è questo tipo di blu tipico E poi c'è un pochettino di armadio Si vede qualcosa E qui si vede una sedia Invece da quest'altra parte c'è il solito camerino Delle OMG E dietro già vedo che c'è lo specchio Con la pellicola Pellicola Dai dai Divertiti Scartata Eccola in tutta la sua capellonosità Messa sul suo piedistallino Il piedistallo ha anche un altro pezzetto che diventerà una seggiolina Vi dicevo dei capelli Sono incantevoli Sono dei boccoli meravigliosi Ma la rendono delicatissima Quindi qui sopra c'è una treccina di quelle attaccate Vi ricordo che l'avevo fatta anche a splatter Però è una bambola estremamente delicata Quindi ok farà parte della nostra collezione Sarà usata con molta accortezza Però tra tutte le OMG Diciamo per giocare Non è tra quella che consiglierei di più Consiglierei più quelle con i capelli legati O quantomeno lisci Perché questa secondo me Se uno ci gioca diventa una pecorella Che altro c'era nella scatola? Questa bustina Lollina Non scherzo Lollina no? E questi due E pacchettini di vestiti Su questo mi fa troppo ridere Il fatto che ci siano delle parole in latino Ho letto Lele Sì è vero Lele E poi boom Odio Odio Ti ti retupatule Recubanzu tec minefagi Che sto dicendo? Parole in latino Lasciamo perdere Sì esatto Reminiscenze di liceo Allora li apriamo? Basta parlare di latino Apriamo queste buste Vuoi partire da quella? Sì Che è la borsa Sì Zainetto Che bella Che si può chiudere Molto simile alla misura di quella delle lol Quindi tecnicamente come misura sembra per le bamboline più piccole Poi Vuoi aprire i vestiti? Sì Aspetta Mettiamo la collina Se la ruba Ok quindi mettiamo in alto Così non lo può rubare Vai E qui i colori sono quelli tipici di Lollina C'è questo scozzese Azzurro Turchese Questa è la gonnellina Vi ricordate quando Lara si era vestita da Lollina a un Romix Sembra moltissimo il suo cosplay Qui che ci sarà il sopra, presumo Giacchettina Aperta Doppio petto Che carina Sempre ha un po' più tovaglietta questa rispetto alla gonna Va bene Ci sono anche due scatole Una che contiene gli accessori E l'altra che dovrebbe contenere le scarpe Prima gli accessori perché Carta Velina Allora gli occhiali Cioè gli occhiali da preside Non so A mezzaluna Sì così da mettere a mezzasta con la lentina Sono da lettura Quindi è una secchiona Pure lei come un pochino era Lollina Che si chiamerebbe teacher petto Eccola qui con questi occhiali a mezzaluna Poi che altro c'è? Una borsetta Ok quindi già presumo che E lo zaino se lo fregherà Lollina Ok Che altro c'è? Orecchini? Sì E due orecchini Così ad anello Molto di moda Vanno tantissimo adesso in questo periodo E rimane quest'altra scatolina Vai Scopriamo nelle scarpe Che numero ha? Cioè è scritto il numero? Sei e mezzo Ok Ho fatto la bottle flip No esatto Ok Sono delle scarpe un po' seriose Era così Sembrava così sexy Con questo completino bianco e nero Invece le scarpe sono un pochettino insomma seriose Quindi sì All'occhialetto da prof E le scarpe un pochettino così Super alte ma Un po' seriose Ma Lollina Che cosa c'è? Ti stai fregando La giacca di tua sorella Che dici? Sorellina È mia quella Eh vabbè dai Dammi Laura Ti lascio lo zaino Però Ok La giacchetta me la devi dare Lo zaino già mi piace Ok dai ridiamogli Ma scusa Ma lo zaino ti l'avevi già preso? Eh 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 Sì Ecco la vestita Questo è il suo vestitino completo L'outfit È stato indossato tutto quanto Ha questi grandissimi cerchi E questa bellina borsetta Lara faceva notare che la borsetta Da questa parte Sì è tutta quanta carina Da quest'altra parte È cava Cioè ha la borsetta cava Ci sono proprio Buona fatta risparmio Allora Veniamo a noi Come affetto amore Questa era la OMG Che stavamo aspettando Da una vita Devo dire come vestiti C'è di meglio Altri modelli Hanno avuto dei vestiti Molto più sgargiolini Più carini Se pensiamo a Anche alle borse O altre cose E soprattutto alle scarpe Che onestamente Non mi piacciono In granché Perché sono mocassini alti Cioè quelle Io quella nappina davanti Insomma Comunque È la bambola di Rollina Quindi noi l'ameremo tantissimo Probabilmente anche Rollina Porta le codine Perché sotto ai capelli A pecorella così Chissà potrei In futuro Decidere di Piastrarla Perché appunto Questa cosa dei boccoli Mi spaventa Ovviamente L'unica cosa Che veramente È Il demonio Questa La spazzo Questa Non la dovete Usare Cioè se Pettinare questi boccoli Significherebbe veramente Avere una bambola Con i capelli Così A pecora E quindi Assolutamente Questa qui Potete utilizzarla Per altre bambole Per il cane Per il gatto Per voi stesse Ma non su questa destina Quindi mi raccomando Resistete Alla tentazione Di pettinarla Comunque Bella Questa serie Vi ricordo Che nei negozi Ci sta Adesso in Italia La serie 2 E ci sono dei modelli Molto carini E vi consiglio Di continuare a seguirci Perché ne apriremo Non solo qui Anche su Mega Wow Quindi Voi Continuate a seguirci Lasciate like Spuntate tutte le notifiche Così quando arriva Qualche novità Sarete subito Informati Lollina Credo che sia Veramente contenta E adesso Probabilmente Andrà a casa Con la sua mamma Quella